Ciao ragazzi e benvenuti qua su Due Fazzi per i Lego, oggi video un po' particolare, siamo davanti, come si vede, al GBC Guinness World Record, ovvero questo percorso con il maggior numero di moduli che adesso andiamo a vedere, ve li faccio vedere tutti, al mondo. Spettacolare, troveremo delle soluzioni di costruzione allucinanti, quindi io non vi faccio perdere troppo tempo, andiamo a gustarcelo e ci rivediamo dopo. Ciao! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.